Allora, sono contenta che il mio intervento avvenga dopo quello della dottoressa Bruni, esatto, proprio perché lei ha fatto la cornice diciamo più teorica, io andrò un po' sul pratico proprio perché da una dozzina d'anni che insegno appunto filosofia in un liceo artistico, prima avevo insegnato alle medie, quindi comunque sempre in una dinamica di insegnamento. E diciamo la mia prima riflessione è stata a partire dalla giornata mondiale della filosofia, come si era detto, perché c'è bisogno di una giornata mondiale della filosofia istituita dall'UNESCO, quindi una cosa molto importante. Perché le giornate mondiali fondamentalmente servono per ricordare cose o fatti che stanno perdendo importanza, oppure servono politicamente, ma non è il caso della filosofia, in questo momento non serve politicamente. Perché la filosofia sta perdendo importanza allora e con la cultura non si mangia, questo è stata attribuita erroneamente a Tremonti qualche decennio di anni fa insomma, però in realtà è un detto che noi sentiamo, con la cultura non si mangia ti puoi figurare con la filosofia. E poi mi è venuto in mente quando i miei genitori ho detto che io mi scrivevo filosofia, che si sono messi le mani nei cappelli e hanno detto povera e nuda vai filosofia, dice la turba, il guadagno è intesa. E in realtà loro insegnavano italiano e latino, italiano e storia, insomma non è che fossero messi proprio tanto meglio insomma. In realtà sono partita proprio da queste due sollecitazioni così popolari per riprendere in mano un testo molto interessante di Martha Nussbaum che si intitola proprio Non per profitto. Il guadagno, il mangiare nel senso immediato del termine, no, non per profitto, perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica. Allora, questo testo che è del 2010 l'avevo preso in mano proprio perché avevo cominciato a insegnare al liceo artistico in quegli anni e è una cosa simpatica che mi era capitata siccome prima era scuola d'arte, poi istituto d'arte, quindi non liceo, improvvisamente trasformata in liceo mi trovo questi colleghi che insegnano teoria del gioiello, pratica della scultura e tutto quanto. E tu cosa insegni? Filosofia? Eh? Ma non c'è filosofia da noi? No, no, dico guardate, da quest'anno vi assicuro che c'è filosofia. Qual è il, diciamo, la base, no, di questo, di questo testo che ho ripreso da, da Nussbaum? Allora, riprendiamo un po' il, il titolo anche di questa, di questo pomeriggio di studio. Cambiamenti d'epoca, ok, stiamo vivendo un cambiamento d'epoca, un'epoca di cambiamento, poi appunto si può, eh, si può discutere su questo. Ma che cos'è un cambiamento? Fondamentalmente appunto è una crisi, una, una, un cambiamento nel senso di capovolgimento, ma la crisi anche come qualcosa che invita a rivolgersi a ciò che è considerato indispensabile. Ehm, quali sono state le crisi? Ce ne sono state tantissime, quindi non è una cosa particolare la nostra epoca di cambiamento, il nostro cambiamento d'epoca. Eh, possiamo pensare alla morte di Alessandro Magno e la nascita dell'ellenismo, scusami, sì, eh, era per svegliarli, visto che in questo pomeriggio, con questo caldino magari, eh, la caduta dell'impero romano e poi la nascita dei regni romano barbarici e quindi anche lì di nuovo, epoca di cambiamento, la filosofia che riprende vita, pensiamo poi alle filosofie del mio Dioevo, del rinascimento, della rivoluzione scientifica, le varie crisi economiche, demografiche del 1300-1600, ma in realtà, come diceva appunto De Maria, probabilmente la vera rivoluzione è stata proprio la rivoluzione industriale e qui mi collego al discorso del profitto. Perché? Perché c'è stato proprio un cambio paradigmatico, eh, rispetto alla visione dell'uomo. La vita dell'uomo si svincola dalla natura, così come veniva detto prima, l'energia che l'uomo produce non serve più in qualche modo in parallelo alla natura, ma anzi soverchia la natura, muta la natura, la muta in un modo, eh, in cui non si può più tornare indietro. Pensiamo all'inquinamento di oggi che è cominciato dalla rivoluzione industriale e non possiamo più tornare indietro. Indietro, basta, noi siamo stati definitivi in questa nostra azione, no? Ma che cos'è che cambia per quanto riguarda l'uomo? Cambia il paradigma di felicità. Eh, se prima, mh, potevano esserci varie definizioni di felicità, varie, eh, eh, concretizzazioni personali della, dell'idea di felicità, eh, a partire dalla rivoluzione industriale in poi, la felicità viene associata in maniera indissolubile a un discorso di bene materiale, di prodotto, di accumulo, un progresso senza fine, ma anche l'immediatezza di questo guadagno, quindi la velocità. Pensiamo all'energia anche come fattore che ha velocizzato le nostre esistenze oggi, mh, in maniera, ehm, preoccupante, insomma, ne ho parlo per me. Eh, e quindi l'idea di felicità è accompagnata sempre a un'idea di guadagno e di godimento nel qui e ora e nell'oggetto, nell'avere, non nell'essere, ma nell'avere. E, mh, faccio una citazione da Tagore che mi è piaciuta tantissimo e ancora ai tempi appunto la, la, la prendevano. Facendo uso delle cose materiali, scriveva Tagore nel 1917, ehm, le cose materiali che possiede, l'uomo deve stare in guardia e proteggersi dalla loro tirannia, la tirannia delle cose, delle cose materiali. Se crescendo resta debole e non impara a difendersi dalle cose materiali, allora inizia un processo di lento suicidio dovuto al dissecarsi dell'anima. Il bene materiale sostituisce la verità del nostro essere. E cos'è che però, eh, rimane, nonostante l'accumulo del bene, eh, del bene materiale, rimane una dimensione della vulnerabilità, fondamentalmente della morte. Io ho una cosa che dico spesso ai miei studenti, poi ogni tanto mi prendono anche in giro, prof, no, oggi c'è il sole, per favore non lo dica. Perché molto spesso concludo dicendo, ma voi lo sapete che alla fine moriamo tutti. E allora all'inizio è, va là prof, va là prof. Eppure non è per, come dire, per sadismo, no, è ricordarlo, ma è per riportare a quell'essenziale che veramente accomuna tutti. E a me piace tanto sta cosa, perché dico, guarda, posso aver vissuto una vita meravigliosa, ricca, piena di amore, piena di affetto, ma comunque muoio. Posso aver vissuto una vita a gramo, una vita di sperato, una vita di malattia, ma comunque muoio. Almeno in quello siamo tutti uguali. Ma allora in quell'orizzonte lì, ciò che ci sta in mezzo tra la vita e la morte, me lo gioco con un significato che do io, non che me lo danno gli altri. O che me lo danno le cose. Le cose che, mi viene in mente Mastro Don Gesualdo, la roba, la roba, la roba via, venite con me. Non ce la portiamo via la roba, ok? Anzi, lasciamo agli altri, che giusto giusto sono lì che aspettano che ce ne andiamo, così vi lasciamo la roba. No, dai, adesso. In questo mi è venuto in mente, non so se avete visto il film Quarto Potere, la scena iniziale che in realtà poi si capisce alla fine appunto, in cui il protagonista, Rico, di successo e bla bla bla, l'unica cosa che, l'ultima parola che lui nomina, che lui esprime prima di morire, è il nome, Rosbund, che è il nome della sua slitta di quando era bambino. E è la morte di un fallito quello. Agli occhi del mondo poteva essere il riccone, no? Ma è un fallito, muore da solo, muore triste, muore insoddisfatto. L'altra cosa, l'altra che mi era venuto in mente era la poesia di John Donne, no? Nessun uomo è un'isola e dunque non cercare mai di sapere per chi suona la campana, perché la campana sta suonando per te. E in questo senso io posso essere individualmente la persona più completa di cose appunto materiali, ma se non c'è nessuno attorno a me, quella campana che io sento ogni momento è un mio funerale dell'anima. Magari non è un funerale fisico, ma è un funerale del senso della mia esistenza. Ancora Papa Francesco, che durante la pandemia ci siamo resi conto di trovarci tutti sulla stessa barca, qui è andata via là, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Qui vado velocemente perché sennò il tempo, il tempo mi passa. Torniamo di nuovo allora sul concetto, ma che cos'è la felicità allora, se non è l'accumulo di beni materiali e l'abbiamo visto e lo percepiamo poi. Riprendiamo dal concetto di uomo, quindi tornando ad Aristotele, che cos'è l'uomo? E a partire da quello, che cos'è la felicità per l'uomo? L'uomo è un animale sociale e razionale. Animale, mangiare, bere e dormire bisogna, quindi non è che siamo tu cur contro i beni materiali, no? Facciamo, no, mangiare, bere e dormire bisogna. Il guadagno serve per la vita. L'errore è metterlo nella centralità della vita. E per quale fine agisce l'uomo? Allora, questo uomo qui, animale, sociale e razionale, appunto per essere felice. Ma essere felice è esercitare liberamente il proprio ingegno, ovvero esercitare liberamente il proprio essere sociale e razionale. Allora, torniamo alla domanda iniziale. A che cosa serve, si sono un po' scompaginate le slide, ma va bene. Quindi, a che cosa serve studiare filosofia? E perché, secondo me, in tutte le scuole una base di filosofia dovrebbe esserci. Lo dico adesso, lo dico qui, mentre assistiamo a un processo di completa perdita di importanza, non solo della filosofia, ma delle materie umanistiche. Tutte le riforme che stanno avvenendo nelle scuole superiori, lo dico da dentro, con grandissimo dolore e grandissima preoccupazione, si rivolgono al 99,9% alle famose STEM, Science, Technology, Economics e STEM, Mathematics. Le materie umanistiche devono essere, ma per richiesta ministeriale, ancora prima di questo ministero, pensate cosa succederà dopo, devono essere funzionali alle STEM. Cioè, prima vengono loro e poi loro, l'insegnante di laboratorio, di progettazione tecnica, viene da me e mi dice, ascolta, io devo fare un percorso sul nuovo design dell'architettura. Puoi fare qualcosa tu? Non so, Aristotele diceva qualcosa a riguardo, beh, se no, saltalo, va, fammi un altro. In questo senso perde proprio la sua visione di totale libertà. La filosofia, e dico tutte, in realtà, le materie umanistiche, la cultura umanistica. Riprendo la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'istruzione deve essere indirizzata al pieno, pieno, non settoriale, pieno sviluppo della personalità umana, e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, e qui torniamo al concetto di democrazia, perché la cultura umanistica è necessaria per la democrazia. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le nazioni, gruppi razziali e religiosi. Ora, senza nulla toriere alla matematica, alla fisica, eh, e a quelle discipline, però se noi riduciamo tutto in un'ottica di profitto o comunque di, ehm, come possiamo dire, di quantificabile a livello matematico, noi stiamo perdendo tutta l'altra parte dell'essere umano che è la parte sociale, animale, razionale, ok, ma sociale. E come materie umanistiche, quanto ho due minuti, un minuto per ciascuna cosa. C'è l'aspetto della filosofia, la filosofia, eh, che è già stato ripreso molto bene dalla dottoressa Bruni, quindi tutto il discorso del metodo socratico. La filosofia insegna un pensiero razionale. La filosofia si interroga logicamente e criticamente, senza paura del confronto. In questo senso, io faccio un piccolo appunto da, da insegnante. è utile insegnare i sistemi, è utile insegnare storia della filosofia. Non possiamo pretendere di fare filosofia senza avere un minimo di conoscenza della storia, della filosofia. Perché, se noi diamo dei contenuti, poi loro sapranno decidere quale contenuto è più vicino al loro sentire, sapranno distinguere fra di loro i valori proposti da questi contenuti. La logica che il metodo socratico impone è sincera e spesso regola i rapporti umani. Insegnare a capire un ragionamento che funziona, un ragionamento che non funziona, ti insegna poi a dialogare, a dibattere, a litigare con qualcuno su basi razionali, non sulla pancia, sulla famosa pancia. Questa è una frase della Nussbaum che mi piace tantissimo. La conoscenza non è garanzia di un buon comportamento, ma l'ignoranza lo è quasi certamente, e non è finita la citazione, di uno cattivo. L'altra parte, ve la tiro fuori tutta che così si vede, della cultura umanistica è tutto ciò che riguarda l'arte. Perché alle volte si tende a distinguere un po' la filosofia, ah sì, brava, bello, la filosofia perché è razionale, ma invece tutte le altre letterature. Invece no, nella socialità, nella parte sociale dell'essere umano, le arti, arti figurative, la letteratura, la poesia, ma anche il gioco in sé dà la possibilità di sviluppare tutta quella capacità empatica di saper riconoscere, gestire, vivere, proiettare le emozioni che potremmo provare in una situazione simile. Avete presente, se avete studiato un po' di filosofia, la catarsi aristotelica, tu vivi nella tragedia, una cosa che speriamo che non ti succeda mai perché è tremenda, ma se ti dovesse succedere in qualche modo tu hai visto, hai già vissuto quello e sai come comportarti o meglio sai già come gestire un minimo, un'emozione tremenda, difficile o bellissima che tu hai visto rappresentata. E la stessa cosa vale nella storia, nel leggere le storie degli altri. Pensate alla letteratura. Mi ricordo alcuni libri in cui l'immedesimazione era talmente forte che sul serio io vivevo la stessa emozione dell'altro e quindi quando a me capitava di vivere quel tipo di emozioni in qualche modo avevo una chiave di lettura e sapevo riconoscere nell'occhio dell'altro, nell'esperienza dell'altro quel tipo di emozione che io stessa avevo vissuto. Questa è empatia, questa è socialità, questa è condivisione. È chiaro che c'è bisogno di tempo, non è immediata, la letteratura non è immediata, la filosofia non è immediata, la poesia non è immediata, ma pensate se voi siete ancora della mia generazione quando si imparavano le poesie a memoria. Quante volte una poesia, adesso la dico un po' in maniera poetica, ti salva la vita, ti dà le parole per dire quello che senti e che tu, perché non sei leopardi, non sai dire. Ci sarebbe tutta la parte riguardante le neuroscienze, ma la lascio perdere, vi dico solo che tutta questa empatia crea la possibilità in noi di modificare proprio delle strutture neuronali, la mia tesi di dottorato era sulle neuroscienze, e quindi non è fuffa, è realtà che l'empatia ci modifica, che la letteratura ci modifica, che la filosofia ci modifica. non è che ce la inventiamo noi. Finisco con il cosa fare. Esula completamente dall'ambito filosofico, un ambito più politico, politico nel senso proprio più pieno del termine. È una frase che io da anni mi porto dietro ed è un politico che è altoatesino, per cui vicino a me, insomma, che con la sua vita, se poi volete andare a cercarvi qualcosa su di lui e scoprirete veramente una grande, grande persona, secondo me ha dato una chiave di lettura. Non più veloce, più alto, più forte, come dice lo slogan per le Olimpiadi, no? Ma più lenti, più in profondità, più dolcemente. Forse è un po' questo, no? Che tutta la cultura umanistica dovrebbe riscoprire. È Alexander Langer. più inizia a per i all'imperi, che è un po' questo. Grazie a tutti